buongiorno a tutti allora proseguiamo con le call news del gigione perché è meglio che sorvolo sulle notizie che leggo e che vedo che in questi giorni quello che devo dire l'ho già detto preferisco evitare ulteriori polemiche e vado a parlarvi delle call news che è meglio perché sennò oggi veramente mi stava salendo l'adrenalina ho dovuto fare san clemente san clemente fa che sia molto paziente vi dico solo quello detto questo andiamo a rimembrare la scomparsa del papà di Michaela Schifrin avvenuta ai primi di febbraio di quest'anno la scomparsa di Jeff Schifrin il papà di Michaela e tra le figure fondamentali nella vita e nella carriera sportiva di Michaela l'autentica regina del circo bianco ha scosso tutti quanti non per niente io la chiamo ogni volta che racconto una gara di sci e tocca a lei scendere dico sua maestà una morte improvvisa a soli 65 anni secondo quanto hanno riportato sky racing e nbc la tragedia è avvenuta appunto sabato in un incidente nella sua casa di Edwards in colorado cadendo dal tetto dell'abitazione Jeff era rientrato negli stati uniti dopo essere stato al fianco dell'intero team Schifrin della figlia Michaela alla moglie Eilen nella trasferta di Bansco medico anestesista appassionatissimo di fotografia e anche discreto sciatore Jeff Schifrin è stato ricoverato all'ospedale di Denver dove Michaela Eilen e il fratello della campionessa Taylor gli hanno donato l'ultimo saluto rientrando direttamente dall'Italia visto che erano in corso gli allenamenti sulla nevi di Folgaria dopo aver scelto di saltare la tappa di Rosa Kutor e concentrarsi sulle gare di Garmisch è chiaro che come avete potuto notare Michaela sarebbe dovuta rientrare a dare ma per circa due mesi non ha partecipato a nessuna gara di sci quindi al di là dell'aspetto agonistico dopo la scamparsa dell'amatissima nonna pochi giorni prima del gigante d'apertura a solde per lei veramente che era partita come vi avevo già detto con l'intento e tutte le possibilità di fare il filotto che viceversa ha fatto Federica Brignone è proprio cioè questa è la dimostrazione che nella vita non possiamo dare mai nulla di scontato e mai dire farò sicuramente si unestia eccetera 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 forse è meglio che viviamo tutti non solo ahimè una campionessa come Michaela ma tutti quanti day by day senza pensare al futuro perché il futuro ahimè lascia molto molto a desiderare perché può succedere di tutto nel bene e nel male detto questo veniamo alla notizia degli esami di maturità che si pensava sarebbero stati così ma poi dopo adesso sono andato a vedere fatto un altro vabbè comunque vediamo cosa avevano detto circa tre mesi fa sul sull'esame di maturità esame di maturità online con solo prova orale tutti ammessi e commissione interna per valutare per la terza media niente esame ma solo una tesina da valutare insieme ai voti dell'anno scolastico per tutti promozione assicurate recupero al prossimo anno e questo è uno scenario più probabile invece non proprio per la fine dell'anno scolastico per il quale si prevede di continuare la didattica a distanza che diventa obbligatoria addirittura discutivi online del testo del decreto approvato dal consiglio dei ministri resta una piccola speranza che si possa tornare in classe entro il 18 maggio cosa che non è avvenuta in quel caso ci saranno esami di maturità più completi prova di italiano di dirizzo ma non a carattere nazionale e colloquio se si torna entro la metà di maggio anche i ragazzi di terza media avranno una loro prova di esame decisa dalla scuola una procedura particolare riguarda i privatisti solo loro faranno l'esame di stato in presenza nella sessione straordinaria che si svolge di solito nel mese di settembre tutti i promossi e testo limato nel testo del decreto legge sulla scuola che arriva in consiglio dei ministri ci sono alcune correzioni rispetto alla morza che il miura aveva preparato giovedì precedentemente si definisce meglio l'ipotesi del tutti i promossi si parla di recupero delle competenze non acquisite all'inizio del prossimo anno per tutti si valorizza il lavoro svolto a distanza valutando l'impegno degli alunni in questi mesi ed è la possibilità di adattare la valutazione alla situazione emergenziale nella sostanza non cambia granché rispetto al testo precedente perché su voti e valutazione finale non ci sarà spazio per bocciature o per rimandati visto il rischio di ricorsi le difficoltà che ancora ci sono per la didattica a distanza ma si evita l'effetto paradossale di rendere obbligatoria la didattica a distanza e contemporaneamente dare liberi tutti per gli studenti che sanno che ci sarà comunque la promozione assicurata dovranno dunque dimostrare di essere stati attenti e di aver ben lavorato in questi mesi da casa bisognerà dunque aspettare l'ordinanza della ministra per sapere se ci sarà il 6 in pagella oppure se eventuali insufficienze verranno comunque segnalate dunque per quanto riguarda l'esame di maturità pare pare che lo facciano in presenza non ci saranno prove scritte ci sarà questa super domandone diciamo in cui gli verrà chiesto praticamente tutte le materie dovranno preparare delle tesine dovranno preparare le varie cose eccetera eccetera sono su cinque step che non vi sto a stressare perché la maggior parte di voi che deve fare la maturità lo sa e agli altri non gliene può fregare meno la cosa buffa è che praticamente teoricamente ci sarà una bella promozione globale a tutti quindi anche il coffaro di la scuola memoria verranno promossi ahimè le cause di forza maggiore adesso vedremo poi a settembre se riusciranno a ripartire se magari riparteranno al primo di ottobre come capitava ai miei tempi negli anni 70 che la scuola iniziava al primo di ottobre poi piano piano dal primo di ottobre 20 di settembre e alla fine iniziavamo a metà settembre addirittura anche al 10 di settembre comunque tra il 10 e il 20 settembre di solito ricominciava la scuola poi dipendeva dalle zone comunque andiamo alla terza notiziuola sempre di un paio di mesi fa in un posto molto molto conosciuto che ahimè non è simpaticissimo si fa sempre più critica alla situazione a cernobil dove da oltre una settimana sta bruciando una vasta area boschiva che circonda il distretto nucleare tristemente noto per il più grave incidente della storia nelle ultime ore l'incendio si è rinvigurato anche grazie al vento e si è steso fino ad arrivare a ridosso del sito di depositi di scorie radioattive le fiamme sarebbero infatti a circa due chilometri dal deposito di pidlishni dove sono conservati i rifiuti più radioattivi dell'intera area di cernobil più di 350 vigili del fuoco lavorano per contenere l'incendio la situazione è critica la zona sta bruciando scritto in un post su facebook accompagnato da un video dell'incendio yemelianenko membro del consiglio pubblico dell'agenzia statale ucraina che ha anche accusato il governo di coprire la gravità degli incendi le autorità ucraine ucraine hanno in finora tranquillizzato affermando che tutti i livelli di radiazione a kiev la capitale sono nella norma nella zona dei roghi invece è stato stimato un livello di radiazione 16 volte superiore alla media ad affermarlo yegor firsov responsabile del servizio locale di controllo ecologico storia quindi oltre al coronavirus anche cernobil fortunatamente poi hanno risolto tutto quanto eccetera però capite che quando qualcosa brucia va su per aria il vento lo trasporta e poi qua c'è di tutto e di più ahimè vediamo finalmente una bella notizia una notizia veramente carina e bella le cime dell'himalaia tornano visibili da 200 km di distanza non accadeva da 30 anni quindi vedete cose positive cose negative eccetera le cime dell'himalaia tornano visibili da 200 km di appunto lo ripeto cosa lo ripeto ora per via della riduzione dello smog dovuta allo stop forzato di industrie automobili e qualsiasi altro mezzo di trasporto le cime si vedono dalla regione del Punjab bello da mozzare il fiato non come stare in cima a una delle sue vette ma il panorama è quasi paragonabile erano 30 anni che le vette dell'himalaia erano invisibili a causa dell'inquennamento atmosferico ora per via della riduzione dello smog dovuta allo stop forzato di industrie automobili e qualsiasi altro mezzo di trasporto le cime si vedono dalla regione del Punjab che si trova a 200 chilometri di distanza secondo l'autorità centrale per il monitoraggio dell'inquinamento nuova daily solo nel primo giorno di lockdown ha registrato un calo del 44 per cento dei livelli di inquinamento atmosferico le tante foto postate sui social rendono l'idea della bellezza dell'imponenza dell'himalaia persino da 200 chilometri di distanza una bella notizia ogni tanto ci vuole perché francamente una peggio dell'altra e ahimè detto questo io vi saluto vi ringrazio per il resto preferisco non fare nessun commento perché francamente a me girano i testi detto questo ci vediamo alla prossima ciao